A Nicoletti è big match tra la prima della classe del Duca Ribelle che fa visita alla Fiericcione e che festeggia le 100 presenze del portiere Passaniti con gli stessi colori. Ma gli arancioni per i padori di casa stile Olanda anni 70 divisa bianco-blu per gli ospiti. Arancionieri subito sugli scudi, Tamagnini sulla sinistra riceve palla, il tempo di sistemare i codini e di provare la conclusione. Grande risposta di Ruffilli. Qui Borghini prova la palombella ma nulla da fare mentre Docente su questa traversione al centro indirizzato per lui vede murata la propria battuta per la facile presa di Ruffilli. C'è chi scodella al centro questa traversione per l'inserimento di Enchisi, bravo a rubare il tempo a Passini ma Ruffilli blocca senza fanni. La Fiericcione continua a premere sull'acceleratore, è il miglior primo tempo della formazione di Lorenzi, Tio di Borghini sporcato da Docente ma Ruffilli c'è. Ma il calcio è strano, il del Duca Ribelle a primo verrà a fondo decisivo va in rete che i gol verrebbe da dire dalla bandierina e il pallone viene allontanato in una zona proibitiva ma provate a dirlo a Mister Castagnoli, classe 2001 spara un bolide indirizzato nel set alla destra di Passaniti e via al festival dei festeggiamenti, gran gol, meritevole del reprei. Tamagnini dall'altra parte verticalizza per Docente che lanciata a rete si sconta contro Ruffilli in uscita, l'arbitro non ha dubbio se nel penalty qualche dubbio a noi invece rimane. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Docente ma Ruffilli è strepitoso nella risposta, continua il momento nero per l'attaccante in maglia numero 9. Ma dal corner dopo una misca in aria, Borghini di testa trova l'angolo vincente con tanto di saluti finali alla prudezza del momento prima eseguita dall'avversario. 1-1 è ristabilita, la parità in campo. Subito dopo i gol la Fiericione continua a pressare e in chiesi si gira e lascia partire un tiro ben angolato, Ruffilli blocca in tuffo. Squadra riposa su 1-1, lo scenario non cambia ad inizio ripresa. Il lancio di Borghini viene respinto da Ruffilli in uscita dalla banderina però la Fiericione passa, i gol manca a dirlo, porta la firma di Enrico Benito. Docente 2-1 e sorpasso FIA. A questo punto i padroni di casa tendono a respirare ed il Duca ribelle viene fuori e inizia a esercitare una propria pressione. Il colpo di testa qui termina a lato mentre Docente prova a far respirare i suoi, chiuso sul più bello. Ancora del Duca protagonista, qui Polini vorrebbe rigore ma viene ammonito per simulazione. Mentre in chiesi poco dopo esegue un perfetto traversone senza trovare deviazioni vincenti da parte dei compagni. Da punizione ci cerca di colpire con un 1 di fatto. Infine, traversone di Briadori non viene raccolto da nessuno. Mentre dall'altra parte Docente, servito da Sparaventi, spara addosso a Ruffilli. Per poi tentare nuovamente la conclusione che termina tra i guantoni del portinone del Duca ribelle. Finale da cartellino rosso, Fiaschini scivola sul terreno di gioco, rimediando qualche calcetto di troppo degli avversari. Ma la relazione del numero 17 è evidente, intanto da meritare il rosso, a giudizio del direttore di gara. L'ultima azione del match è la confezione a Briadori e Nisi, traversone per la testa di quest'ultimo, con Sfera a lato. 2-1 in finale e Fiaschini continuano una vittoria convincente e prestigiosa del Duca ribelle, scavalcato in classifica dal Diegaro.